Per noi tutti i giorni è l'otto marzo. Al vostro servizio dispensiamo prodotti, ma anche... Affidabilità. Ascolto. Empatia. Cordialità. Affetto. Stima. Disponibilità. Amicizia. Cortesia. Gentilezza. Passione. Professionalità. Accoglienza. Garbo. Chi siamo? Gli uomini e le donne delle botteghe di vicinanza e di fiducia nel cuore della città. Sempre al vostro servizio!